Ok, per eseguire questo esercizio vi servirà una venda, una venda elastica abbastanza resistente che vi permette di allenarvi. Posizionatela all'altezza del vostro gomito e il gomito a dietro il vostro fianco. Mantenete una flessione di braccio di circa 90 gradi. Da qui, addome attivo, vado a portare all'interno la mano e ritornerò in posizione di partenza. La velocità di esecuzione sarà lenta e costante. Grazie.